Noi vogliamo ogni anno raccogliere un po' le esperienze che ci sono state nei mesi trascorsi e poi chiaramente stimolarci per i nuovi. Un modo migliore per farlo è quello di incontrarsi tra tutti quelli che per un verso o per un altro sono stati i nostri collaboratori nella raccolta sangue. Chiaramente si comincia dai volontari, poi si va alle associazioni amiche, e associazioni del territorio e tutti coloro che per motivi diversi ci sono stati vicini, le scuole, gli studenti. È un po' il punto della situazione ancora prima della festa della donazione che ci sarà il 17 dicembre. Ma perché? Perché vogliamo sempre e ancora una volta ribadire quello che ci stimola, che sono gli obiettivi verso una diffusione sempre maggiore della cultura della donazione in questo caso del sangue, ma donare in qualsiasi forma e per qualsiasi momento è anche un ritorno per se stessi. La nostra ASL è molto attenta all'associazionismo del territorio e a dare voce alle associazioni, a collaborare con le associazioni, perché le associazioni rappresentano i nostri cittadini in varie vesti, perché abbiamo associazioni di pazienti, associazioni di volontariato vero e proprio. Oggi siamo con l'associazione Donatori di Sangue che tanto fa per il nostro ospedale. Per cui c'è una grande motivazione a collaborare con il terzo settore perché naturalmente questo aiuta anche la ASL ad essere vicina ai propri cittadini. Non ci dimentichiamo che queste associazioni sono fatte di persone che su una base assolutamente volontaria si mettono al servizio dei cittadini. è in maniera extra istituzionale. Quindi la ASL che rappresenta l'istituzione collabora con chi non è istituzione sempre convergendo l'interesse verso i nostri cittadini. Grazie a tutti i nostri cittadini. Grazie a tutti i nostri cittadini.